Non si è chiusa questa azione, attenzione perché adesso sul ribaltamento del fronte c'è l'azione della Spagna, il cross verso il centro pericolo, ci arriva Chiellini che va a chiudere su Silva che stava arrivando in area di rigore da destra. L'Italia si è fatta a trovare un pochino scoperta in questa circostanza, velocissima la ripartenza della Spagna, azione sul settore di sinistra, cross, arrivava Silva sulla destra, chiusura l'ultimo momento da parte di Giorgio Chiellini. Ciavi verso il centro, azione infinita da parte della Spagna, attenzione a Iniesta che ha guadagnato qualche metro, trova la deviazione di Chiellini sul tentativo di conclusione, ma c'è ancora la Spagna che adesso mette nell'angolo l'Italia, sta arretrando il baricentro della formazione di Prandelli, attenzione a Ciavi, lo scambio con un compagno, ancora l'alta, sopra la traversa, alta di poco, pericolo per gli azzurri. La Spagna ha tenuto palla per tre minuti, ha fatto girare il pallone, gli azzurri hanno inizialmente tenuto alto il baricentro, poi hanno dovuto arretrare all'improvviso lo scambio sul breve fra Ciavi e Fabregas, il tiro di Ciavi immediato. La palla alta, sopra la traversa, ma di poco, anche se Buffon ha dato l'impressione di essere sulla traiettoria. Attacca ancora la Spagna con Silva, apertura per Arbeloa sul settore di destra, il tocco verso il centro per Ciavi, posizione tre quarti, centrale, Iniesta, imbucata, dentro Fabregas, pericolo, Fabregas, Chiellini, cross sul centro, avete! Ha segnato la Spagna con Silva di testa, abbiamo visto subito che quella poteva essere una palla pericolosa, Chiellini si è fatto superare dallo scatto di Fabregas che ha raggiunto la linea di fondo. Il cross verso il centro, arrivava Silva dalla retrovia, di testa messo il pallone in rete per il vantaggio della Spagna. Cambio al faziale a Chieva, al quattordicesimo minuto, gol di Silva, Spagna in vantaggio, punteggio di 1-0 sui tanti. La palla aveva assunto la traiettoria piuttosto strana, peraltro dalla tribuna, questa deviazione poteva essere anche sembrata pericolosa. La palla in realtà è terminata lontana dalla porta ma in calcio d'angolo, quindi subito corner per gli azzurri, il primo per la formazione italiana. Lovate Pirlo da sinistra il cross verso il centro di Casillas, smanaccia e anticipa di un soffio il tentativo sul secondo pallo da parte di un giocatore italiano di De Rossi che ha cercato il colpo di testa sul secondo pallo ed è stato messo fuori tempo di un soffio dalla smanacciata di Iker Casillas. Forse per parte adesso la ricorsa di Pirlo, il tiro, pallone deviato e che finisce in calcio d'angolo. Ma Pirlo poi De Rossi, accelerazione di De Rossi, si sovrappone Balzaretti a sinistra, parte il cross di Balzaretti, questo è buono! Balotelli, l'uscita da parte del portiere Iker Casillas che smanaccia soltanto il pallone in un primo momento. Marchisio prova ad intervenire ma Casillas poi con la parata in due tempi, anche con l'assistenza di Fabregas che egli ha in qualche modo stoppato il pallone con il fianco, riesce a recuperare il pallone. Guardato a Balotelli, ancora De Rossi, palla dentro per Cassano, lato corto di sinistra, Cassano, finta, dribbli, Cassano, tiro! Parata di Iker Casillas. Ha fatto tutto da solo, Cassano è andato via sul settore di sinistra, grande guizzo, poi ha dovuto scegliere, si crossare verso il centro e andare al tiro in porta. Ha cercato la conclusione verso la porta avversaria, ha trovato il raso terra con la parata non difficile di Iker Casillas. Per l'altro due, sono stati compagni ai tempi dell'esperienza Real Madrid di Antonio Cassano. Adesso bene l'Italia con Andrea Piero, posizione centrale, tocco per Cassano, fa a limite, Cassano, tiro! Casillas di pugno, ancora Abate, il cross, deviazione e pallone che poi viene ancora allontanato. Ma c'è ancora Barzagli che tiene viva l'azione degli azzurri con Abate, ancora una volta al tiro Cassano poco fa, questa volta più impegnativa, più velenosa la conclusione. Casillas non ha rischiato la presa ed ha respinto con i pugni, poi sul tapin l'Italia non è riuscita ad approfittare subito dell'occasione. L'Italia che ha mantenuto il possesso di palla ma adesso deve ripartire dalla propria metà campo, l'ennesimo fallo, questa volta di Silva, su De Rossi. Calcio di punizione in favore degli azzurri. Ecco Xavi che ha recuperato il pallone in questo momento, avanza Xavi e grandi falcate, non la metà campo avversaria, dentro il pallone Fabregas, tiro! Rete, raccoppio della Spagna con Cesc Fabregas, alla quarantunesima minuta un'imbucata perfetta da parte degli spagnoli. Fabregas è scattato sul filo del fuorigioco, ha atteso l'uscita del quartiere Cigi Bufoli e ha messo il pallone in rete per il raddoppio degli spagnoli. Cambia ancora il faziale qui a Kiev, Spagna 2, Italia 0, gol di Fabregas, minispot per noi. Poi l'Italia prova a risalire la china, non ha palle gol clamorose ma qualcosa di interessante lo costruisce, proprio nel momento in cui l'Italia dava l'impressione di poter uscire un po' dal guscio e di spaventare gli avversari. Il grande contropiede spagnolo con il gol di Alba al quarantunesimo minuto e adesso mancano davvero 5 secondi alla fine del primo tempo. C'è il lancio in avanti di Barzagli, anticipato Mario Balotelli e arriva in questo istante il fischio finale dell'arbitro Proenza. Finale di tempo dunque allo stadio olimpico di Kiev, la Spagna in vantaggio, punteggio di 2 a 0 sull'Italia. Le reti di Silva e Alba, giustamente Pranelli ha caricato i suoi, nulla è perduto in questo secondo tempo. Proviamoci, Montolivo vertice dell'area, toco fuori per Marchisio, ha di fronte a essere un avversario. Lo scambio ancora con Montolivo, dentro la palla per Abate, immediato il cross, di lontano di testa! Palla alta, sopra la traversa, palla gol per l'Italia dopo 45 secondi! Subito per mandare un messaggio chiarissimo agli spagnoli e forse anche a noi che siamo un po' più pessimisti. Prova De Rossi, il tocco per Balzaretti, palla ancora per Balzaretti, sulla sinistra, sul breve per Montolivo, spalla alla porta, dentro il pallone! Di Natale! Casillas! Ancora di Natale! Casillas ancora! Grande parata di Iker Casillas sul tiro di prima attenzione di Totò di Natale. Più tardi avremo anche le play per capire se poi è stato bravissimo Casillas o se di Natale poteva far di più, però è un fatto. Siamo andati due volte nella loro area di rigore, nello spazio di pochi secondi e abbiamo fatto capire a tutti quanti che questa è una partita in salita, ma non è ancora una partita chiusa. Parte il cross di Pirlo, Casillas con il pugno allontana la palla, poi c'è Di Natale che ha recuperato il tocco per Balzaretti, per Balotelli, zona tiro, prova! Pallone che si alza sopra la traversa, tiro dal limite di Balotelli, palla alta, 13 minuti giocati nel secondo tempo, 2-0 per la Spagna, esce David Silva, l'autore dell'1-0, al suo posto dentro Pedro. Avanza De Rossi, palla al piede, siamo nel cuore del centrocampo, il tocco in avanti per Tiago Motta, terra Tiago Motta, forse fallo, no, l'armido lascia proseguire. Attenzione perché Tiago Motta sembra essersi fatto male, attenzione che abbiamo già fatto i tre cambi, ai ai ai, si tocca l'aduttore della gamba destra Tiago Motta, ha un'espressione molto dolorante, forse aveva anche subito un fallo. No, speriamo non sia nulla di grave però, perché qua abbiamo già finito i cambi. Mamma mia Paolo, è qui, è qui. No, è qui, si tiene l'aduttore. I giocatori dicono cambio, cambio, ma forse lo stress agonistico li impedisce di capire che ormai i tre cambi sono effettuati. Non c'è nessun tocco da solo, sente tirare l'aduttore, ma voi pensate la sfiga, pensate la sfiga. È caduto proprio perché... Non ha sentito più la gamba. Non è uno sport dove vincono sempre per forza i più forti A volte succedono cose strane E allora andiamo a viverci, a goderci questa mezz'ora Che si separa dalla fine e giochiamoci il tutto per tutto Male che vada saremmo arrivati secondo l'Europeo E quindi sarà comunque un grande risultato Adesso punizione per l'Italia Alla che è arrivata Buffon All'indietro il pallone ancora da Barzagli per Abate Sbaglia il controllo Abate Palla in fallo laterale Questa è l'azione che fotografa l'andamento della partita La Spagna che fa quello che vuole Gli azzurri che fanno fatica a regolare il pallone E quando lo recuperano sono talmente stanti Che lo perdono da solo Ora il gioco di due metri Però noi dobbiamo attaccare Che è quello che dobbiamo fare Dobbiamo andare avanti Ormai, ormai, dai Provarle tu Si è fatto male Bazzaretti adesso Si è fatto male Bazzaretti Ci manca soltanto per completare il quadro Paolo, per completare il quadro di quelle partite Che hanno un chedi eroico Qualcuno con il turbante in testa Modello Cannavaro 98 Ci manca solo quello Poi le abbiamo fatte tutte Andiamo Paolo RTL 125 A crederci sempre 36esimo nel secondo tempo A Kiev Spagna 2 Italia 0 Paolo se mi permetti Vorrei spiegare il senso Perché credo di averle intese Delle tue parole Quando dici grande sconfitta Perché questa è una grande partita Ma non dobbiamo Comunque vado a finire Non dovremmo vedere facce abbattute Facce che non hanno futuro Perché hai detto bene Stiamo costruendo qualcosa di molto Ma molto importante Con la speranza di continuare a farlo Con Cesare Prandelli In vista del mondiale più affascinante Che ci può essere Quello in Brasile Ma nel frattempo dobbiamo ancora giocare E andiamo avanti Modo di vedere Pirlo De Rossi Pallone perso ancora dall'Italia Ha recuperato Ciavi Torres dentro Torres tiro 3 a 0 Di Fernando Torres Sull'uscita di Gigi Buffon Cambia ancora il parziale Al 39esimo minuto Il terzo gol della Spagna Fernando Torres Va a chiudere la partita A questo punto Pato di titolo in coda Spagna Terre Italia 0 Fernando Torres È il primo giocatore della storia A segnare due gol In due finali diversi Del campionato europeo Spagna 3 Italia 0 Che di fatto Ha fatto partire I titoli di coda Su questa finale Una finale Che l'Italia comunque Ha giocato con l'impegno La Spagna Lo dobbiamo dire Ma lo dice anche il punteggio Ha vinto meritatamente Attenzione ancora la Torre Il scenario di rigore Tira la rete E sono 4 Ha segnato Mata Appena entrato in campo Sul territorio di gioco Gli azzurri adesso hanno Mollato Da un punto di vista psicologico Anche questo sarebbe un errore Da non commettere In futuro Il tocco dentro Per Torres Che prima aveva cercato Dalla stessa posizione Il tiro verso la porta Adesso ha visto il compagno Che arrivava da dietro Gli ha servito Un pallone facile E Mata Attaccante del Chelsea Ha messo il pallone in rete Per il 4-0 Della Spagna Al 43esimo minuto È trionfo spagnolo L'Italia Peccato Subisce un passivo Troppo pesante Per come è andata la partita Soprattutto Lo subisce Nei minuti finali Ormai mancano pochi secondi Fischio alla bocca Arriva il fischio Della signora Proenza È domenica 1 luglio 2012 La Spagna È campione d'Europa Per la seconda volta consecutiva La terza complessiva Successo meritato Da parte di quella Che si è confermata La squadra più forte del mondo Grazie lo stesso Ragazzi azzurri Va bene così Balotelli Delusissimo Abbandona subito Il terreno di gioco Qualcuno cerca di consolarlo Ma lui Spinge via E con le lacrime agli occhi Torna direttamente Negli spogliatoi C'è ovviamente Grande delusione Da parte degli azzurri Ed è festa grande Per la Spagna Le Anetti Al quattordicesimo Del primo tempo Silva Al quarantunesimo Della prima frazione Giordialva Nel secondo tempo Nel finale Al trentanavesimo Fernando Torres Al quarantatresimo Mata Finale a Kiev Spagna batte Italia 4 a 0 Spagna Campione d'Europa